Un saluto agli amici di MobileWorld.it, siamo a Mobile Focus, un'altra fiera dentro la fiera qui al Mobile World Congress di Barcellona. Siamo ora allo stand SanDisk, vogliamo farvi una rapida dimostrazione delle nuove microSD A1 di SanDisk appunto. 256 GB di memoria, ma non è questo il punto focale appunto della microSD. Non è neanche la velocità di lettura che è 100 MB al secondo e di scrittura che è 90 MB al secondo. Quanto più le operazioni al secondo, 1500, e per far vedere appunto la velocità delle operazioni di questa microSD hanno posto una microSD standard e una microSD appunto A1 nuova di SanDisk su questi due telefoni di Motorola. Credo sia Lenovo, va bene, ma facciamo finta sia Motorola. E facciamo partire la stessa applicazione nello stesso momento per vedere appunto la velocità di apertura dell'applicazione. Le applicazioni ovviamente sono installate sulla microSD, come si può vedere la microSD nuova A1 SanDisk è molto più veloce. Ovviamente dovreste avere uno smartphone che permette l'installazione dell'applicazione sulla microSD. Quello di sinistra praticamente ha già caricato il gioco, quello di destra ancora lo deve caricare. Direi molti secondi di vantaggio. Per questa rapida dimostrazione delle nuove microSD A1 di SanDisk è tutto un saluto da Lorenzo Delli per MobileWorld.it